Allora, io sono Giulia, sono tante cose in realtà, nel senso che io non so definirmi sulle cose che faccio ma penso che ogni cosa che faccio e ogni cosa che provo poi siano pezzetti di me quindi quando io mi devo descrivere io dico che sono Giulia, che sono una psicologa, che sono una mamma che sono una figlia e una sorella e cerco di essere un'amica, anche se questa volta non sono bravissima, temo nel senso che è un po' per colpa del mio lavoro, a volte delle mie modalità, non sempre questa cosa è apprezzata infatti ho pochi amici ma quelli che ho sono per me delle persone meravigliose e diciamo che ho sempre pensato alla vita come una cosa bella, anche se ci sono stati periodi difficili e io questo penso di doverlo un po' alla mia mamma la mia mamma è sempre stata una persona, la mia mamma non è una persona esattamente tanto coccola è più una persona da parole, da riflessioni, da gesti, però non è tanto da bacini bacetti ma io mi ricordo che fin da quando eravamo piccolissimi una cosa che la mia mamma ogni giorno ci diceva era che non era importante che tipo di risultati avessimo ottenuto durante la giornata ma era importante che noi la sera guardandoci allo specchio e mentre ci davamo i denti ci sistemavamo prima di andare a letto, potessimo dire a noi stessi se eravamo fieri di quello che avevamo fatto, se pensavamo di aver fatto bene se pensavamo di aver fatto male, se pensavamo di poter migliorare in qualcosa e quindi di fare un po' questo bilancio della giornata ma cercando sempre di chiuderlo sul che cosa ho fatto di bene oggi e che cosa posso migliorare, quindi sapendo già che anche la giornata successiva sarebbe stata una giornata positiva perché avremmo potuto costruire qualcosa di buono su quello di magari il negativo che c'era stato il giorno e quindi non lo so, penso che questo mi abbia insegnato a rivalutare anche i periodi difficili della mia vita e non so nemmeno dire perché questa è una cosa che mi chiedono spesso quando io ho deciso che avrei voluto fare la psicologa da grande e non lo so dire anche perché adesso che lo faccio e adesso che lo sono penso che al tempo io non avessi la più ben che minima idea di che cosa significasse fare la psicologa, fare la psicontara fetta io so che l'ultimo anno di superiori tutti i miei compagni pensavano cosa fare e io a un certo punto ho detto beh io voglio fare psicologia sì io in realtà appunto sapevo che avrei voluto fare psicologia ma il perché, il per come, da dove fosse nato ora sinceramente adesso non lo so dire mi capita spesso di sentirmi raccontare che c'era qualcuno che sapeva fin da piccolo che cosa voleva fare nella vita io forse no, nel senso che poi fin da piccola per carità mi piaceva stare con le persone questo sì mi piaceva, anzi come avanti si dice mi piaceva stare con chi aveva casini più avevano casini più erano amici miei e questo allora forse dirottava un po' l'indole però non saprei come ho fatto a definire la mia scelta ma di fatto che evidentemente è stata una scelta giusta perché poi mi ci sono scoperta e non all'università nel senso che chi ha fatto o fa psicologia probabilmente sa che durante l'università mi pare tante nozioni teoriche ma non altre tante pratiche almeno io per me è stato così forse ci ho messo di più le mani quando ho cominciato con i tirocini e soprattutto quando ho finito l'università mi sono abilitata e ho cominciato a lavorare io ho cominciato a lavorare quasi subito dopo l'abilitazione e in barba anche lì a chi mi diceva no vabbè ma come fai a sentirti pronta ma prima devi capire insomma al fine i tirocini avevo fatti io mi sentivo in grado di ho provato e mi è andata bene è un'altra cosa come diceva l'inizio quindi io sono una psicologa e forse al secondo posto delle etichette della mia identità ci metto che sono una mamma sono una mamma non solo perché ho due figlie in realtà tecnicamente io i figli ne ho quattro in terra ne ho due e non sono comunque una mamma solo per questi figli che ho ma sono una mamma perché mi sento materna cioè io sento quella spinta comunque a sostenere le persone e a spingerle affinché camminino con le loro gambe che io penso sia la cosa essenziale per un genitore troppo spesso come genitori ci sentiamo sicuramente responsabili per i nostri figli e questo lo siamo ma anche di doverli proteggere di doverli accompagnare costantemente invece io penso che noi dobbiamo stare tra il fianco e dietro e lasciare che poi loro prendano la loro strada eventualmente aggiustando il tiro dando una mano a loro aggiustare il tiro quando ce lo chiedono e io in questo mi sento molto materna a 360 gradi e penso che non sia un caso infatti che la mia frase preferita che infatti è anche tatuata sul mio braccio è sì, un arcovaleno tra le nuove di qualcun altro cioè quel fatto di riuscire ad essere quel poco di buono e di solare e di luminoso che ci può essere per dare la spinta agli altri a credere in se stessi e di andare avanti con le loro gambe anche quando sono in difficoltà dicevo che questa è probabilmente la seconda etichetta che mi darei perché anche questo fatto di diventare mamma almeno a livello fisico, diciamo a livello concreto è stata un'altra di quelle esperienze nella vita che mi ha segnata e mi ha cambiata e io ho sempre desiderato, questo sì posso dirlo ho sempre desiderato di diventare mamma ma proprio perché sapevo che questo desiderio poteva farmi fare degli scivoloni molto grossi che non sarebbero stati opportuni né per me né per un eventuale figlio ho sempre cercato di stare molto attenta ad evitare di restare incinta quando non era il caso tanto che nonostante nella mia famiglia non ci sia una grandissima comunicazione sull'educazione sessuale io a 17 anni ho chiesto a mia mamma di accompagnarsi da ginecologo mi spiegando proprio che io avrei voluto prendere la pillola mia mamma è rimasta un pochino male però la cosa era necessaria cioè io la ritenevo necessaria e quindi è andata così non appena mi è sembrato ci è sembrato il tuo papà delle mie bambine opportuno ma che potesse essere il momento per cercare dei figli ci siamo detti proviamo proviamo con calma io ero giovanissima nel senso che noi abbiamo cominciato a non prendere più precauzioni quando io avevo 23 anni però io mi ero laureata con l'anno e tutto insomma ci sentivamo a posto avevamo comprato casa e insomma avevamo cominciato a vivere una vita un po' più stabile anche se per esempio a livello lavorativo io sappiamo che davanti avrei una bruttissima gavetta ancora dovevo ancora fare il quidocino post laureo dovevo fare l'esame di stato avrei dovuto sicuramente cercare un lavoro o aprire una partita IVA sapevo che davanti avrei avuto la scuola di specializzazione quindi un sacco di cose a livello lavorativo però ci sentivamo abbastanza stabili non ci siamo tanti intestarditi nella ricerca proprio perché comunque eravamo giovani e quindi andava come andava finché a gennaio del 2013 io mi sono accorta che erano tipo due mesi che non avevo il ciclo postuale e tra l'altro è successo proprio poco dopo che avevamo pensato di sposarci noi a dicembre ci siamo detti vabbè sospendiamo un po' la ricerca e sposiamoci e appunto poi quindi non ci stavamo più pensando e poi mi sono accorta che erano già due mesi che io non avevo il ciclo e la cosa era strana e quindi ho fatto un test ed era positivo ed era tutto bellissimo e tutto mi sembrava perfetto anche perché stupidamente e ingenuamente ho sempre dato per scontato che solo a chi fosse magari troppo vecchio oppure troppo disattento potesse succedere qualcosa di male in un periodo così meraviglioso come può essere quello della gravidanza e abbiamo fatto le prime visite ed andava tutto bene e non l'abbiamo detto a tantissimi nel senso che l'abbiamo detto alle nostre famiglie e poco altro perché nonostante tutto sapevo che il rischio nel primo trimestre insomma c'era la mia mamma stessa aveva perso un bambino quindi insomma un po' di scaramanzia c'era poi insomma eravamo arrivati al quarto mese la pancia si vedeva e tutto quanto quindi abbiamo cominciato ad annunciarlo e poco dopo questi annunci qualcosa è andato storto non si sa ancora bene cosa e probabilmente non si saprà mai e abbiamo scoperto che il battito si era fermato e che quindi il nostro bambino a quel punto non era più con noi e è stata una botta è stata una botta anche perché purtroppo non ci aspetta intorno a noi un grosso supporto le persone non hanno capito che cosa significasse il personale medico assolutamente è stato di una indelicatezza assoluta sia al momento della diagnosi che al momento del ricollo che nel periodo successivo e quindi sembrava che sia la pazza che ci stava male fondamentalmente anche perché appunto tutti dicevano sei più malissima, hai 24 anni ti devi preoccupare fredatene fondamentalmente all'inizio ho provato a fare questo è stato quell'anno tra l'altro un anno molto particolare perché nel 2013 poi io ho fatto l'esame di Stato e ho passato l'esame di Stato e tra l'altro c'è stato un bellissimo viaggio e anche i viaggi ecco forse nella mia costellazione identitaria mancava questo io sono una viaggiadrice c'è stato un bellissimo viaggio che è stato il primo viaggio che io ho fatto da sola con la mia mamma e siamo andati in Ucraina siamo andati in Ucraina perché la mia sorellina minore che al tempo praticava l'atletica in maniera agonistica era stata convocata ai mondiali giovanili che si tenevano là e quindi io e la mia mamma siamo partiti per partite per andare a vederla e tra l'altro era a cavallo tra gli iscritti e l'orale del mio esame di Stato tanto che si era pensato di rimandare il viaggio ma io assolutamente non potevo perdermi quell'occasione anche perché vado avanti anche perché io e la mia mamma io amo la mia mamma ma la mia mamma non si può dire che siamo mai andate tantissimo d'accordo adesso andiamo d'accordo forse perché essendo mamma anch'io riesco di più a medesimarmi in lei però per tanto tempo ci siamo scontrate anche perché e Giulia anche perché non so perché continuo a dire questo anche perché io penso di essere stata una di quelle figlie che avrebbe avuto a volte bisogno anche di quelle carezze che invece da lei venivano un po' perinole adesso comincio a capirlo e quindi quel viaggio per me è stato comunque un viaggio importante è stato un viaggio bellissimo e quando adesso mi chiedono quali viaggi siano stati i più belli quello ci finisce sempre dentro nonostante io ne abbia fatti tanti altri e tanti altri bellissimi e quindi ho fatto quello poi ci siamo effettivamente ci siamo sposati quindi il 2013 è stato comunque un anno intenso in cui ho cercato di andare avanti fingendo che fosse tutto ok ma nel frattempo parallelamente documentandomi su come stavo cercando di utilizzare anche tutto quello che avevo studiato e tutto quello che potevo studiare per capirmi meglio per capire chi aveva intorno a me che stava vivendo la stessa cosa e da lì che io ho cominciato a formarmi nell'ambito del lutto nell'ambito del lutto in generale perché fin da subito non ho voluto limitarmi all'ambito del lutto per i Natali perché forse non avevo scoperto subito questa particolare branchia diciamo di questa tematica un po' perché comunque penso che un lutto sia un lutto io questa cosa la dico sempre nel senso che tu abbia perso chiunque se tu stai soffrendo non conta né quanto tempo abbiate vissuto insieme né che tipo di persona fosse o se fosse più animale domestico non c'entra proprio niente perché evidentemente è stato comunque qualcuno di importante nella tua vita e così è stato per me per quanto riguarda mio figlio perché sicuramente è rimasto nella nostra vita per pochissimo tempo però io posso dire che è da quel momento che io mi sento di essere potuta definire specialmente mamma e per me questo è stato importante e quindi da lì poi ho conosciuto tante mamme ho approfondito diverse tematiche sulla perinatalità e quindi ho messo quest'altro tassello poi l'anno dopo dopo circa un anno ero utile di ricerca di nuovo quando abbiamo sospeso le ricerche perché io avevo aperto la partita iva sono rimasta incinta di Camilla e quindi poi Camilla è nata nel novembre del 2014 e nonostante ovviamente io sia felice che Camilla sia nata che sia nato tutto bene e che tutte le persone che la incontrano ammino follemente Camilla ogni tanto mi dispiace che qualche persona si sia dimenticata che prima di Camilla c'è stato un altro bambino perché per me comunque Camilla è la mia seconda figlia tanto che Camilla sa ne abbiamo parlato di tanto non è una cosa di cui parliamo tantissimo perché ovviamente non è che tutti i giorni dobbiamo parlare di questo però Camilla sa che nella mia pancia come direi c'è stato quello quindi si insomma sono una mamma dopo Camilla ci sono state altre due gravidanze un'altra che si è interrotta purtroppo molto presto alla no una settimana e poi è nata Clarissa che ci ha fatto penare da morire già durante la gravidanza perché anche Clarissa ha il schiatto di fare le sue nel senso che Clarissa ha ben pensato di rompermi il sacco a 22 settimane e quindi anche lì c'è stata tutta un'altra esperienza che sicuramente mi ha cambiata e mi ha aggiunto tasselli a livello di identità e anche a livello di significato che io posso dare a questo per sé della mia identità del mio essere mamma e queste due facce io penso che questo essere mamma e essere psicologa si intrecino costantemente nella mia vita e infatti poi io sono specializzata in psicoterapia relazionale della famiglia perché comunque lavorare con le famiglie per me è una cosa meravigliosa a parte che lavorare con le famiglie significa lavorare fondamentalmente con chiunque perché tutto è famiglia anche le persone da sole hanno degli effetti che sono singoli vivono da sole hanno degli effetti delle situazioni e comunque hanno delle famiglie alle spalle e quindi in realtà lavorare con le relazioni con la famiglia significa lavorare un po' a 360 gradi e a me lavorare con le relazioni piace tanto perché dentro ogni relazione ci sono talmente tante sfaccettature che non si ha nemmeno idea un'altra cosa che mi chiedono spesso è se non è pesante lavorare costantemente con il dolore degli altri se non è pesante sentirmi raccontare continuamente le lamentazioni e le frustrazioni degli altri e io a questo rispondo sempre che io non lavoro con il dolore degli altri io vedo rifiorire il sorriso sulla faccia degli altri e vedo le persone che stanno male che questo è il mio lavoro il mio lavoro non è raccogliere il dolore il mio lavoro è farlo evolvere il dolore e dargli senso a quel dolore dargli uno spazio e farlo diventare una cosa che fiorisce e quindi anche in questo io mi sento appunto materna nel senso che lo dicevo prima di essere lì di fianco a darti la spinta e dirti io mi fido di te io mi fido di te e so che tu ce la puoi fare so che tu puoi arrivare dove puoi arrivare so che tu puoi essere felice felice nel senso che tu dai a questa parola e a queste due che si intrecciano quindi all'essere mamma e all'essere psicologa si intreccia sicuramente la terza cosa che dicevo prima che è l'essere viaggiatrice e di nuovo in questa casa viene fuori mia mamma cioè sembra che mia mamma venga fuori spesso nella mia vita vero? mia mamma è una viaggiatrice l'è sempre stata e forse ecco mia mamma è un po' poco mamma in questo nel senso che lei è sempre stata una donna di mondo che vive nel mondo e io le ho sempre detto che lei sarebbe stata una fantastica come si dice missionaria che sarebbe stata una persona abilissima nel sostenere gli altri e solo che a volte questo è pesato a noi come figli perché necessariamente il suo esserci per tutti a volte a noi dava l'impressione che togliesse qualcosa a noi però appunto mia mamma è una viaggiatrice e siccome invece mio papà non lo è perché non è esattamente una persona che si adatta ai viaggi di questo genere mia mamma partiva con noi anche quando eravamo piccolissimi e ci ha abituati a viaggiare ma viaggiare nel vero senso della parola avere andare nei posti scoprire i posti stare con le persone conoscere i gusti conoscere le abitudini conoscere la lingua quindi avere veramente immergersi nelle culture altrui e io poi ho imparato che non serve andare lontano a volte per viaggiare perché puoi viaggiare anche sotto casa e conoscere il punto di vista differente dal tuo che ha il tuo vicino di casa e questo secondo me in psicoterapia è fondamentale perché è fondamentale ricordarsi che non c'è e non ci può essere giudizio in nessuna cosa che ti viene raccontata perché ognuno sa che cosa significa aver camminato nelle proprie scarpe ma non sa cosa significa camminare nelle scarpe degli altri e quindi sono le persone sia quelle abbattute dalla vita che a volte da fuori ti accorgevi quanto facessero fatica a notare i lati positivi della loro vita e quindi ha imparato che è importante invece soffermarsi sui dettagli sia perché invece ha conosciuto talmente tante persone che sono state toccate malamente dalle situazioni della vita e nonostante questo si sono rialzate o forse non sono addirittura mai cadute e riescono a sorridere e che ogni tanto mi viene da pensare che io non posso fare altrimenti che ogni cosa deve avere un significato e che il significato di fatto glielo diamo noi e glielo diamo noi decidendo se vogliamo splendere e quindi essere felici oppure se vogliamo pensare di non valere la pena nemmeno del nostro stesso sorriso però questo io penso che lo decidiamo noi se possiamo ci sono sicuramente adesso non voglio sminuire le situazioni in cui questa cosa diventa difficile e non per niente nel mio lavoro io incontro le persone che si trovano in difficoltà in questo però io penso anche che nel momento stesso in cui si ammette di essere in difficoltà e si decide di cercare un aiuto oppure di cercare di capire come poter affrontare le cose in modo diverso già si stia scegliendo di sorridere e si stia scegliendo di tirarsi su e di trovare un modo per dare un senso un significato alle cose anche se a volte le cose un senso non ce l'hanno dal punto di vista pratico ad esempio la perda di mio figlio io non posso dire che abbia avuto un senso io non posso dire di essere contenta che sia andata così però posso dire che nel tempo gli ho dato un significato abbastanza ampio e che penso che mi abbia cambiato la vita talmente tanto che sono stata fortunata nonostante tutto che lui ci sia stato anche se per poco tempo e quel poco tempo a me può essere bastato raccommentiamola così fosse stato di più probabilmente avremmo costruito più cose insieme però a volte basta veramente un attimo un dettaglio una situazione anche piccolissima e apparentemente banale per dare una svolta differente alla nostra vita e penso che questo sia un concetto fondamentale e questo l'ho imparato dalle situazioni che ho incontrato sulla mia strada e quindi quando devo definirmi allora mettiamoci dentro sono una psicologa sono una mamma sono una viaggiatrice e sono una persona che ama i dettagli che ama soffermarsi sulle piccole cose non penso che ci sia una definizione univoca per questo cioè non so che ci sia un singolo sostantivo che definisca questo e niente quindi questi sono i pezzetti di me che mi compongono e forse ecco forse ce n'è un altro sono provvista sono capace di parlare per ore e ore e ore e ore ma anche questo per me ha un significato perché nel tempo ho imparato quanto importante sia parlare quanto sia importante dialogare dirsi le cose esprimere le emozioni dare verbalizzare nel vero stesso dell'approccio di metterlo nero su bianco anche solo dicendolo ad alta voce quello che si pensa e quello che si prova perché pur essendo noi animali sociali non sempre abbiamo istinto a sufficienza per comprenderci gli uni con gli altri se invece verbalizziamo ci concediamo di essere compresi ed essere comprensibili per lo meno non tutti ci capiranno però questo non è fondamentale dal mio punto di vista è molto più importante che noi ci sentiamo di essere comprensibili poi il fatto di essere effettivamente compresi è un plus è sicuramente una cosa che ci fa star meglio però non è indispensabile quindi diciamo sono prurista io parlo costantemente mi piace parlare però mi piace parlare anche con i gesti con appunto i dettagli mi viene in mente un'altra cosa di me che su questo argomento del parlare del comunicare penso abbia per me avuto un grosso significato ed è il fatto di essere cresciuta al lago e in particolare di essere cresciuta fondamentalmente in acqua perché quando io ero piccolare ci posso stare in acqua giorni interi e con i miei fratelli facevamo sempre un gioco e il gioco era quello di parlarsi sott'acqua ed è difficilissimo parlarsi sott'acqua se non uno l'ha mai fatto provare per federe perché in realtà tu non senti minimamente con le orecchie quello che lui ti dice devi riuscire ad agruzzare la vista quindi riuscire a cogliere i dettagli dell'abiale riuscire a cogliere i gesti riuscire a accogliere lo sguardo riuscire a cogliere anche lo sguardo del prima quando prima di immergersi e anche lì ho imparato a parlare e ad ascoltare con tutto il corpo infatti si vede non sono mai capace di stare ferma io mi muovo costantemente mentre parlo e non sono in grado di concentrarmi su un discorso se non mi sto muovendo ho imparato ho migliorato questa tecnica nel tempo perché purtroppo per fortuna nella società occidentale a volte è richiesto comunque un atteggiamento più statico però forse per me io non starei mai ferma e penso che il non verbale sia qualcosa di essenziale nelle relazioni e questa cosa è un'altra di quelle che spesso ci dimentichiamo e visto che ho parlato del lago un'altra cosa che sicuramente a me ha cambiato e cambia costantemente è proprio il mio rapporto con l'acqua l'acqua è il mio elemento ed è l'elento in cui io mi riprendo mi ritrovo è il posto in cui io so che riesco a calmarmi e per me questa è un'altra cosa importante ma non solo per me nel senso che io ho imparato che ognuno di noi ha un suo posto nel mondo e che saperlo riconoscere e saperselo concevere è essenziale per ritrovare l'energia quando si ha il bisogno di rimettersi in piedi perché se prima dicevo che la cosa fondamentale sono i dettagli le piccole cose il saper sorridere anche di cose banali aggiungo che a volte questa cosa è tremendamente difficile e si ha la necessità di essere in uno stato psicofisico sufficientemente stabile per poterlo fare e trovare il tuo posto nel mondo per questo è fondamentale però anche su questo c'è una deroga nel senso che troppo spesso mi sento dire Emma Emma su qualsiasi tipo di cosa e ad esempio su questo discorso del posto nel mondo di Emma me ne sono sentita dire a palate perché ovviamente per esempio il mio posto nel mondo se io dovessi definirlo è sull'ago di Garda nella sponda veronese verso nord in una di quelle spiaggette che è comunque abbastanza poco affollata anche l'estate in cui ci sono i ciottoli in cui l'acqua è limpida e gelata e quindi in pochissimi ci fanno il bagno ecco lì immensa quello è il mio posto nel mondo però il mio posto nel mondo non è quindi qua fuori casa e quando io ne ho bisogno non è detto che io possa prendere e andarci e allora essere anche in grado di ridimensionare le aspettative e spezzettarle forse in cose più piccole e prenderci il buono che possiamo trovare quando siamo in un'altra situazione quindi se non posso arrivare fino là è chiaro che se io potessi arrivare fino là sarebbe il top se qui non ce l'ho posso anche solo mettermi ad esempio io che appunto ho come elemento l'acqua sotto la doccia è chiaro che sono due cose diverse però è una questione anche di concentrazione e di concedersi di trovare quella concentrazione queste sono cose che ho imparato nel tempo man mano che man mano che le affrontavo ma anche man mano che conoscevo le persone e in questo io appunto dico sempre che il mio lavoro non è una cosa in cui io solo aiuto gli altri ma è anche qualcosa in cui gli altri aiutano me perché essere parte del processo di guarigione tra virgolette di miglioramento di ritrovamento del benessere delle altre persone ti aiuta a vedere delle strade che magari prima non conoscervi perché ognuno di noi ha una strada differente infatti il mio lavoro non è quello di dare la strada di dire devi fare così io non do indicazioni io non sono un manuale magari ci fosse un'indicazione univoca in questo senso ma io cerco di aiutare le persone a trovare la loro strada a trovare il loro tracciato e per me questo è meraviglioso perché poi man mano che vedi tante strade scopri che magari qualcuno prima tu non l'avevi nemmeno presa in considerazione ma non fa così male neanche a te e vedi che questo si collega secondo me sia al essere una psicologa che all'essere una viaggiatrice perché sicuramente vedere tanti modi di vivere la vita di affrontare le cose di percepire le cose ti apre la mente in maniera ampia di un'ampiezza che nemmeno si può immaginare e si collega anche con il fatto di essere mamma perché nel momento in cui dai alla luce un'altra persona devi dare per scontatto che quella persona sarà diversa da te e avrà modi diversi dai tuoi e avrà modi diversi dalle tue aspettative siccome quella persona l'hai messa al mondo tu a volte hai delle aspettative molto specifiche e non è detto che vengano assecondate che trovi una risposta e inevitabilmente questo ti mette a confronto con te stesso e quelle tue aspettative e quindi tutte queste cose si collegano costantemente dentro di me e nella mia vita e nella mia storia si collegano costantemente questo confronto e questo cercare nuove strade che magari poi le prendi e cominci a camminarci dentro e scopri che no non è una strada che fa per te e quindi devi tornare indietro e prenderne un'altra però intanto quel pezzetto di strada ti ha detto qualcosa di te fosse anche qualcosa che è una cosa che non ti piace ma meglio scoprirlo e sapere che non ti piace piuttosto che non scoprirlo mai e poi c'è un'altra cosa che mi caratterizza oggi non sono così convinta che mi caratterizzassi in passato o meglio penso che mi caratterizzassi in passato ma come nella stradalissima maggioranza dei casi e delle persone nella nostra cultura anch'io non la facessimo non la coltivassi o forse neanche non neanche non so di coltivarlo ma proprio di farlo vedere ed è l'estrema infinita importanza che io do alle emozioni e al verbalizzare le emozioni tutte le emozioni noi non siamo assolutamente abituati e io sto facendo una battaglia infinita sia sui social che per esempio con le mie bambine o con i bambini dell'asilo dove loro vanno e cose di questo genere sull'educazione emotiva sull'imparare a concederci le emozioni innanzitutto quindi di ammettere a noi stessi quando siamo tristi arrabbiati felici soddisfatti cioè quindi riuscire a riconoscere noi bambini e poi riuscire a concederci di dirlo ad alta voce agli altri senza sentirci in colpo sentirci sbagliati e anche imparare a farsi figliare che possano dircelo senza sminuirli o senza giudicarli faccio degli esempi che ne so quello che può essere il piangere non serve a niente o ma ti arrabbi sempre troppo o cose di questo genere e ho imparato del tempo perché appunto io penso di essere una persona molto emotiva ma molto poco educata alle emozioni un po' per i motivi che dicevo prima familiari un po' per la cultura dominante in cui comunque noi siamo immersi e penso che anche questo faccia una gran parte di tutte le dimensioni che mi compongono forse in particolare di quelle tre di cui parlavo prima dell'essere psicologa essere mamma ed essere viaggio che ci c'è per me poter esprimere poter dar voce alle emozioni e sapere che tutte le emozioni sono positive è fondamentale quante volte anche in studio mi succede che qualcuno arrivi e mi racconti la sua storia che spesso è comunque una storia drammatica o comunque con delle sfaccettature complesse e quindi mi venga da piangere mentre me la racconta e quando mi viene da piangere spesso le persone si scusano e a me è lì che proprio mi viene spesso no perché scusate questa cosa io anzi la dico è una delle cose che io dico le prime cose che io dico a una persona quando arriva in studio da me che è che da me non ci si scusa perché si piange ma anzi si è assolutamente in diritto di piangere così come di arrabbiarsi così come di alzare la voce per quanto mi riguarda ovviamente non di alzare le mani però per quanto mi riguarda se è una cosa che viene fuori o perché tu me l'hai raccontato o perché io ti rimando un tipo di riflessione che ti fa incazzare sei autorizzato anche ad incazzarti sei autorizzato a ridere sei autorizzato a rimanere in silenzio sei autorizzato a fare quello che ti senti infatti io vedo poi tutte queste cose che mi compongono a un certo punto nella vita io le ho le ho messe nero su bianco sulla mia pelle quindi io ho un tatuaggio sulla gamba in cui c'è scritto colletto in any tears che vuol dire colletto in inglese significa sia collezionare che raccogliere ed io mi sento proprio partecipe di queste io le lacrime sia quelle di gioia che quelle di rabbia che quelle di frustrazione che quelle di tristezza le raccolgo ma non solo le raccolgo ma le colleziono le tengo da parte nel senso che so quanto ogni singola lacrima qualsiasi emozione che se a 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 fondamentale di noi e quindi penso che le lacrime non basano né nascoste né dimenticate ma vadano collezionate e oltre che raccolte c'è bisogno che di qualcuno che raccoglie le nostre lacrime e ci faccia sentire compresi nonostante come dicevo prima la cosa importante è che io mi senta comprensibile però essere compreso non è esattamente una cosa da niente e poi dentro quindi tutte queste cose delle emozioni secondo me c'è un gesto che è un gesto dal mio punto di vista meraviglioso che però troppo spesso ci dimentichiamo di fare o gli diamo un significato sbagliato che è quello di chiedere scusa io lo vedo questa casa io l'ho notata tantissimo dopo essere diventata mamma perché soprattutto tra genitori chiedere scusa a tuo figlio soprattutto quando è piccolino e perché ti rendi conto magari di avergli dato una condizione sbagliata o di averlo guidato inutilmente è una cosa che viene percepita come una perdita di autorità quando in realtà secondo me a chiedere scusa è il primo gesto di autorità perché se io posso concedermi di ammettere di aver sbagliato significa che io so anche riconoscere quando invece magari faccio giusto e che io so mettermi di discussione che quindi sono una persona la cui autorità ha una validità io non sono autoritario sono autorevole sono credibile e poi si torna sempre la io penso che una delle cose che mi ha salvato nella vita mi ha dato la spinta a mettermi in gioco su tanti fronti si è stato proprio il fatto che la mia mamma a un certo punto e più o meno quando io avevo 18 19 anni in un certo senso mi ha chiesto scusa mi ha chiesto scusa nel senso che ha riconosciuto anche lei e verbalizzato il fatto che noi due siamo diverse e per certe cose non ci capiamo e che lei come mamma ha fatto il possibile ha cercato di fare nel suo meglio ma si è reso conto che non è sempre andata per il verso giusto e questo per me è stato fondamentale perché mi ha fatto capire che io posso fallire non succede niente perché se ha fallito anche lei e mi ha chiesto scusa siamo ancora tutte e due qua non succede niente io posso chiedere scusa ci io a volte posso fare del mio meglio e comunque non ottenere i risultati sperati perché non sempre dipende solo da me e ultima cosa che io posso sempre continuare a fare perché anche se sbaglio anche se chiedo scusa poi posso ripartire e questi per me sono concetti fondamentali perché cadere in ginocchio è una cosa che capita a tutti ci capiterà variate volte nella vita una volta in più è semplicemente una volta in più in cui tiriarsi è un po come il primo sarà forse un aforismo che diceva che non per esempio dallo psicologo non ci vanno le persone che hanno problemi problemi ce li abbiamo tutti no ci vanno le persone che vogliono risolverli secondo me è questo proprio il fatto è concederti di dire che anche tu puoi avere un problema o una difficoltà e non è solo un'azione di andare allo psicologo perché poi se non sembra più in utica perché la gente va dal psicologo ma non è quello il fatto è proprio il fatto di concedersi di dire ok va bene ci sta ho fallito non succede niente ho un problema ce l'hanno tutti non sono io che sono da meno e non sono perfettamente in linea con quello che gli altri si aspettano di me oppure con quello che io mi aspetto da me vabbè può succedere a tutti succede nella vita quindi non sono ne più ne meno rispetto agli altri e questa secondo me è una cosa importante e anche se poi c'è lo step successivo che io sto forse imparando in questo ultimo anno della mia vita con questa cosa mi sono molto allenata che è proprio il fatto di non confrontarsi con gli altri ma è confrontarsi con i se stessi di ieri e quindi dire ma io rispetto a ieri sono andato avanti sono andato indietro sono migliorato sono peggiorato ho imparato qualcosa ho dimenticato qualcosa ho lasciato andare qualcosa e però il confronto è con una persona che ci somiglia a una persona che ha lo stesso background nel discorso di camminare con le proprie scarpe invece confrontarsi con gli altri è sempre un po' stare le fine a se stesso perché perché gli altri sono gli altri non siamo noi cioè noi possiamo imparare dagli altri per carità perché magari comunque come dicevo prima ci danno uno spunto su strade su altre strade possibili però noi non siamo gli altri e quindi io penso che anche questo sia fondamentale riuscire a parlare con se stessi allo specchio in tutti i sensi io questa penso sia una cosa che ho imparato a fare nella vita anche se sicuramente mi ci devo ancora allenata a parlare con me stessi allo specchio a parlare delle mie emozioni a parlare di come mi sento a parlare di che cosa desidero a parlare delle mie aspettative su di me senza pensare alle aspettative degli altri su di me anche a parlare dei miei difetti a parlare delle cose che io vorrei migliorare a parlare di quelle che magari invece non so migliorare non posso migliorare che riconosco come difetti ma anche come base fondamentale della mia vita perché è inutile che ci diciamo che non è così ci sono anche delle cose che per quanto siano magari dei difetti degli errori niente non riusciamo a cambiarli perché comunque noi ci riconosciamo anche in quelle e vabbè mica possiamo essere perfetti anche questo evitare di cercare la perfezione mamma mia quanto l'ho imparato quanto le cadute della vita mi hanno insegnato che andare a cercare la perfezione non solo non ti porta ad essere perfetto ma ti porta ad essere triste perché non ci arrivi mai e ogni volta che ti sembra di essere arrivato ti manca un passo e quindi non sei mai soddisfatto davvero ed è un peccato perché invece potremmo essere sempre soddisfatti un altro tatuaggio che ho, ma questo è un'altra signora di qua c'è scritto pancarei, tutto scorre, tutto va sempre avanti non fermarsi mai che tanto le cose scorrono, le cose cambiano, evolvono e per me questo è importante ma vedi è proprio tutto scritto, ho pensato che infatti me ne manca io ho già un progetto da qualcun altro, un'altra cosa che ho scritto è questa ma non c'è scritto in reverse of fighting e tanti mi hanno detto beh però cosa vuol dire? che allora devi essere sempre combattivo no, in realtà per me non fermare, non smettere mai di combattere significa sapere che c'è sempre un dopo sapere che c'è sempre un'evoluzione delle cose e che a volte ci si può fermare se sento che quello è il mio dopo rispetto a prima è fermarmi un attimo e tirare il piatto posso tranquillamente fermarmi e questo non vuol dire smettere di combattere perché so che quel mio fermarmi mi serve a ricaricarmi e a concedermi tutte le emozioni di cui ho bisogno e poi riparto ma questa è sicuramente un'altra cosa che a me dà tanta carica anche proprio il fatto di potermi fermare io ho sempre pensato di non doversi fermare mai invece fermarsi a volte è essenziale ribadisco fermarsi solo perché io scelgo di fermarmi non perché mi spaventa quello che c'è intorno o perché penso che non ci sia altro da fare ma mi fermo perché mi rendo conto che io ho bisogno di fermarmi e che il mio passo successivo è quello di fermare poi ci sarà un altro passo successivo e appunto poi tutto scorre